Credo che le riforme non possano essere interrotte, ma penso anche che ci voglia più coraggio per fare le riforme. Noi dell'Italia dei Valori pensiamo che il Senato, se non serva, vada abolito. Non serve un senaticchio fatto da chi viene a Roma per fare shopping una volta alla settimana. Se non serve, il Senato va al tolto e così il bicameralismo perfetto viene eliminato. Ha rallentato la nostra legislazione e in questo senso ha danneggiato la nostra economia. Più coraggio, andiamo avanti.